Voglio essere tuo discepolo! Vuoi essere mio discepolo? Sì! Vendi tutto. Dai il ricavato ai poveri e seguimi. Tutto, tutto? Tutto, tutto. Tutto, tutto, tutto! Tutto, tutto, tutto! Tutto, tutto, tutto. Col cazzo che vendo la casa di Torvaiarica! Col cazzo! Ti attacchi al cazzo! Al cazzo te devi attaccare! Gli altri due! O meno. Stop! Perfetto! Adesso, per favore, mi fai una crasi! Tra il martellone che ho visto adesso, che mi è piaciuto tantissimo, e lo Zaccheo Gifuni! Mi fai una crasi! Motore! Il famoso cazzo de crasi!